...di fare una verità prendendo il simbolo del nome Nord, la Lega Nord. Non basta togliere Nord per dimenticare decenni di famiglie verso tutti i giorni. E' una cosa più interessante che in tutti questi anni sono cambiate tante cose, no? Eppure hai dei déjà vu, perché io l'altra sera ho rivisto un'altra volta Berlusconi che firmava il contratto con gli italiani. Però ricordiamoci sempre una cosa, che tra il 2001 e il 2018 in Italia sono cambiate tante cose, la banda si è rivoluzionata, i cellulari si sono rivoluzionati, l'unico che firma ancora contratti truffa, per gli italiani è lui, eppure lui è cambiato, perché hai capito che la tua vita è rivoluzionata al 2001.